Le molisane di Serie D ancora alle prese con il Rebus allenatore, meno Rebus però in Alto Molise dove Antonio Mecomonaco sta iniziando a conoscere i suoi compagni di viaggio per l'avventura alla guida dell'Olimpia agnonese, tra questi Marco Palazzo ma anche Antonio Orlando e Mister Di Pasquo. Un matrimonio che si celebra ancora non ufficialmente, quello con Mecomonaco inseguito da tempo da parte della dirigenza Granata. Erano stati fatti almeno due o tre tentativi negli anni scorsi prima di addivenire ad un accordo. La proprietà ha chiesto espressamente all'allenatore abruzzese di ottenere risultati con il bel gioco e possibilmente di consigliare acquisti idonei alla costruzione dell'organico. La lacuna maggiore dell'Olimpia di quest'anno è stata quella probabilmente di spendere tanto e di non azzeccare in tutto e per tutto le scelte di mercato estive, ma questo è un discorso che può essere decisamente consegnato agli archivi storici. Dovrebbe essere difficile trattenere il molisano doc, agnonese doc per meglio dire di Lollo, che piace a tante squadre di Serie D, anche di altri gironi. Litterio potrebbe essere il primo confermato unitamente al centrocampista ex Taranto Corso. A Campobasso si aspetta entro la settimana il nome del tecnico, curiosamente si è annunciato prima il suo secondo, Alfredo Cimino. Ma tant'è, la società sta lavorando anche sul fronte pagamenti, pare si stia lentamente giungendo ad una risoluzione con tesserati della stagione corrente, specialmente con i fuori quota. Dovrebbe essersi ristretta la rosa di nomi relativa al tecnico. Panarelli o Passiatore, uno potrebbe essere il nuovo allenatore del Campobasso 2018-2019. Una sottolineatura che abbiamo sempre fatto riguarda la rosa di giocatori, anche quest'anno l'organico dovrebbe essere sottoposto ad una rivoluzione quasi totale. Un'abitudine evidentemente non troppo virtuosa, quest'ultima, che sta andando di moda nel capoluogo da qualche anno a questa parte. L'allenatore sembra essere fra gli argomenti chiave anche a Disernia, sembra vicinissima la chiusura con il campano Pasquale Borrelli. Per lui anche un trascorso da giocatore del Campobasso. Si sta lavorando sodo ad una limatura fra domanda ed offerta. Questo il motivo della mancata ufficialità che sembrava potesse arrivare a Disernia da un momento all'altro.